Ma siamo proprio sicuri di voler fare dolcetto e scherzetto in questa casa? Ma certo! Cosa vuoi che succeda? A me sembra un posto così carino. E poi ricorda, grande portone significa grande cesta delle caramelle. Io ancora non ho capito perché siamo vestiti così. Te l'ho detto mille volte, perché è Halloween! Ed è una festa stupenda dove puoi metterti in maschera, fare gli scherzi e soprattutto mangiare tantissimi dolcetti. Sì, ma questo posto è davvero spettrale, eh? Sofì ha ragione. Sento che c'è qualcosa di molto strano. Non vi preoccupate, ci penso io. Dolcetto, scherzetto! Sette lucia d'Halloween Allora, non è un dolcetto, scherzetto! Dolcetto, scherzetto! Me con te, il film! Vacanze in Transimania!